E bella a tutti ragazzi, qui è Bazo che vi parla e siamo ancora qua col Peo e il Vittorio a continuare la serie Senza il Allora, senza l'il, sì Perché? Non ci mettono Siamo arrivati qua Non ci mettono i Siamo arrivati qua Praticamente dentro qui Siamo arrivati qua in Creta perché abbiamo guardato un video Praticamente tipo una cosa lunghissima Tipo ci mettiamo 3-4 minuti In creative con volando Pigment Abbiamo distrutto tutto qua di Ossidiana ma non abbiamo trovato niente Lui non so neanche cosa sia l'Ossidiana Però È un materiale, no? Cioè siamo arrivati solo qua in Creatis dopo aver fatto tutto Sì, dopo il ponte lo farò però In Survive ci metterò anni Siamo qua, se no dopo non ci possiamo più accortare Sì ma dopo non so più come Perché ci impieghiamo un sacco a registrare Non so più come facciamo a finire perché noi dobbiamo andare Sì Siamo qua chiusi dentro Ecco bravo Non è che devi farlo alto 27 blocchi È alto 1,2,3 in modo che non lo possa saltare E 2? Non andava bene? No Perché metti che è un interman 3? 3 è un numero che porta fortuna No, è largo 2 No, 3 ore di letteratura e quindi 3 ore di promessi sposi Quindi non porta fortuna Aveva fatto 3 ore di promessi sposi 3 ore di promessi sposi è impossibile Allora no, chiedilo a Matteo No, cioè è impossibile da sopportare dico Infatti tutti stanno spiegando Tutti stanno spiegando Le campane Le campane Di rompere Collone Sì poi di rompere Ma che ossi Cosa mi serve un ghettardo? I se arrivano gli cani E se arrivano gli cani E se arrivano gli cani Comunque guardate che non cade tutto Adesso Perché c'è sotto Tipo C'è sotto La cacca Di Bredoc Bredoc Vittorio Basti Vi dico Non cadere perché non voglio fare Tutto tempo Ritornare qua Ce l'ho un letto Intanto ci vuole Ah che bello È vero Non c'è la notte qua Credo Che bello Le lunedì e martedì Non dobbiamo andare a scuola Sì Faccio parkour C'è Ti tiro il parkour nel culo Sta cadendo Amica chips Com'è che si chiamava? Che figlio di Poo Poo Di Poo Poo Sì di Poo Di Winnie the Pooh Ah Winnie the Pooh Che bello 10 di Ossidiana Secondo me questo qua È un seglio per l'Handeport Però non l'abbiamo La c'è il dio Oddio Com'è? No No Io E io la No ah Però c'è la C'è la Sandstone C'è la C'è la Soulsen Will be Used in the future Per uccidere Non è che la Cianino Will be Ragazzi Stiamo scoprendo adesso Quest'isola Che due palle però Guarda un po' Ah no Questo è proprio cacca Qua sono i cactus Distruggi un po' Se ti siedi sopra Che fai Brrr Che cazzo le fai Di così talte torce Ma che se ti servono Dopo In un futuro Non sprecare Quello che hai Dopo le tolgo Che spacca tutto Calus No quello verde Che spacca tutto Hulk Hulk Spacca Allora Lo sbar No Hulk non c'entra Con gli attentati Ma l'incredibile Hulk Perché scappa Scappa Si scappa Scappa Ma non c'è niente C'è più Secondo me Sto faccia qualcosa Secondo me Se tocchi quelli Robi lì Vanno in giù le vite Perché le vite I cuoricini Ma va Ma che poi Il cuore è un pugno Non è un cuore Tipo c'era uno strato Un po' più basso Viste come Adesso mi scavo Sotto i piedi Cado Guarda un po' sopra Oddio Ma che poi Non pensate male Al telefono E E E Vittorio E Con la serena No Il telefono Taglialo Taglialo Questo pezzo Di Bello Mi è scappato Beh Pensiamo Allora Allora Cosa fare C'è la colla C'è lui è qua Guarda la colla Tipo Se metto qua Almeno si appiccica Sì Resta Dopo la paghi te 300 euro Costa Vittor Non dirgli ho Così No ma sta E' vero il video Un po' mosso 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 Come il tuo Oh 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 Allora Peo Battute No Basta Basta Stiamo saltando Dopo il mio Povero Vitti Cosa ne dici Si era bugato Perché è quarzo Perché è quarzo Scavolo Per fare il vecchetto Che palle Non lo rimetto a posto Non lo rimetto a posto Acab Non voglio Adesso morisco Peggio dei lesi Peggio dei lesi Allora Allora Cosa facciamo Creiamo un portale Del nether E poi con cosa Lo accendiamo La cac Quanti cazzo Sono i blocchi sprechi Beh Dobbiamo andare Noi due Quasi Quasi Le 4 e 5 Sono qua Eh non ti dà C'ho la manzo Poi sono tipo Quattro Finisce il video Aspettate L'hai fatto troppo lungo Lo sai Cosa Il video No il Il portale Se ci impiega Guardo male Sono abituato Sul minecraft normale Al mio piccone Con efficienza 5 No devi dare Quello con efficienza 50 Che scava più velocemente Della luce Com'è tutta Madonna Quante Però Fidatevi ragazzi Non abbiamo registrato Cavolo Ma in serio Eh sì Abbiamo registrato Due video Se vengono fuori Due 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 Tomorrow Tomorrow Vedi che l'hai fatto Un blocco più largo Stavo facendo Caput Ok e come lo accendiamo? Stavo bene Noi andiamo in credito Cioè scusate Non ci hanno mai dato La gravel L'abbiamo mai trovata La gravel No Comunque 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 Eh ma non Tipo No non ce la diamo Al flinte Mi hai trovato Flinte Sì Prendo soltanto La selce Così devo pure Sprecare Al ferro No non è Sprecare Dobbiamo andare Noi andiamo in Sì Sì Accerini Eh Le hai fatto il contrario Mi figate L'ho detto In che senso? Lo vedi fatto Così qua due E qua tre Allora Sei lì Nella prossima volta Che verranno di nuovo loro Chi? Lui No aspetta No Durante le vacanze Durante le vacanze Sto male Durante le vacanze Di Natale Ovviamente Aspetta Ciao Alla prossima A Natale Puoi